Seconda giornata di ritorno per la Serie B, che di settimana in settimana cerca di delineare la propria classifica. Si aspetta una reazione dal suo Bari, Colantuono, dopo la sconfitta di Cittadella, che ha riportato i suoi fuori dalla zona play-off. Di contro, però, ci sarà un ostacolo assolutamente duro, quel Perugia che si conferma una delle squadre più temibili del torneo e che è davanti ai galletti di due punti. Tre punti separano in classifica, invece, Benevento e Carpi, avversari sabato al Vigorito. Gioisce in questo 2017 il Cesena, che dopo la vittoria in Team Cup in casa del Sassuolo ha ottenuto un ottimo pareggio a Perugia in una gara ricca di emozioni e gol. L'Ascoli, dal canto suo, torna in campo dopo il rinvio per il terremoto. C'è attesa dunque per vedere all'opera la squadra di Aglietti. Al Piola di Novara arriva il Pisa di Gattuso, reduce dal successo nello scontro diretto contro la Ternana. Esordio in panchina per Gautieri, subentrato sulla panchina della Ternana in settimana al posto del dimissionario Carbone, che è chiamato a dare una scossa alle fere per rilanciare le possibilità di risalita in classifica. Di contro però c'è un Cittadella quarto in classifica e capace di iniziare l'anno con la stessa grinta e qualità con cui ha chiuso il 2016. Tra il sesto risultato utile consecutivo ed il Vicenza c'è l'ostacolo Spal, seconda in classifica e con grandissime ambizioni. Bel match domenica alle 17.30 tra Ellas Verona e Salernitana. Lunedì alle 20.30 invece c'è Spezia Latina. Dopo aver bloccato la capolista, il latino di Vivarini vuole ripetersi in casa dello Spezia, che invece dal canto suo punta a cancellare in fretta lo stop di Salerno e ritornare così in zona playoff.